I rappresentanti della famiglia turinese sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris nel corso del tradizionale giro istituzionale del Carnevale Benefico 2017. La delegazione, che oltre alle istituzioni, visita, scuole, case di riposo e ospedali per portare un po' di allegria, era guidata dalla presidente Daniela Piazza e dalle due maschere piemontesi Giandui e Giacometta, che dopo lo scambio dei doni con le Giacomette hanno improvvisato uno spettacolo di balli tradizionali.